oggi parleremo del complemento predicativo del soggetto e cominciamo come al solito da alcuni esempi alberto sembra sereno francesca è diventata grande il pavimento risulta pulito la sera si annuncia mite quelli che abbiamo evidenziato in rosso sono dei verbi copulativi e nella lezione dei verbi copulativi per quanto riguarda la serie della grammatica abbiamo detto i verbi copulativi sono dei verbi che in sé non hanno un significato specifico ma che sono si completano attraverso una parte nominale che segue il verbo copulativo e che gli stessi verbi copulativi fungono appunto da unione tra il soggetto e la parte nominale i verbi in questo caso come sempre diventata risulta e si annuncia sono verbi copulativi perché in sé il loro significato si completa soltanto nel momento in cui noi aggiungiamo sereno grande pulito e mite e quindi sereno grande pulito e mite che cosa sono sono appunto abbiamo detto la parte nominale cioè quella parte nominale che il verbo copulativo poi legherà nella sua funzione appunto di copula legherà con il soggetto sereno legato ad alberto grande a francesca pulito al pavimento e mite alla sera a questo punto possiamo fare un passo avanti e affermare che questa parte nominale cioè sereno grande pulito e mite altro non è che un complemento predicativo del soggetto perché sereno predica una caratteristica specifica di alberto quindi aggiunge una caratteristica specifica ad alberto grande va a definire una caratteristica di francesca pulito va appunto a indicare che in questo caso una caratteristica specifica del pavimento in mite fa la stessa operazione cioè indica una caratteristica specifica del soggetto cioè la sera a questo punto possiamo passare alla definizione complemento predicativo del soggetto il complemento predicativo del soggetto è costituito dalla parte nominale che si lega al soggetto della frase per mezzo di un verbo copulativo ma non sono su questi verbi che diciamo fanno in modo poter esserci appunto il verbo il complemento predicativo del soggetto ma altri verbi introducono il complemento predicativo del soggetto ma in forma passiva questi verbi sono i verbi appellativi chiamare dire soprannominare i verbi elettivi come per esempio leggere nominare proclamare dichiarare i verbi estimativi come per esempio stimare giudicare di tenere naturalmente questi verbi in forma passiva rigorosamente questi e ovviamente verbi simili per queste tre categorie rigorosamente in forma passiva introducono il complemento predicativo del soggetto completiamo questa lezione andando a vedere gli esempi di questi verbi lorenzo dei medici fu chiamato il magnifico il magnifico e appunto il complemento predicativo del soggetto luca è stato nominato capogruppo e capogruppo diventa il complemento predicativo del soggetto mario ritenuto bravissimo da tutti bravissimo il complemento predicativo del soggetto e perché il magnifico capogruppo e bravissimo sono complementi predicativi del soggetto perché di fatto vengono introdotti da dei verbi che sono i verbi copulativi cioè verbi fu chiamato cioè appellativi malpassivo è stato nominato verbi elettivi malpassivo e ritenuto verbi estimativi malpassivo quindi verbi di fatto usati al passivo introducono il complemento predicativo del soggetto grazie grazie